salve e bentrovati a questo nuovo appuntamento che apre la settimana sui mercati vista la festività di ieri non solo a livello nazionale ma anche a livello di molte borse continentali e non solo piazza affari comincia subito con il piede giusto ma gli occhi degli investitori sono puntati sugli stati uniti dove domani verrà rilasciato il dato sull'inflazione di marzo per esempio andando a vedere il grafico del fuzzimib indice che si mette in mostra come uno dei migliori listini di quest'oggi vediamo come il progresso superi abbondantemente il punto percentuale e che si tratta di un rialzo maturato praticamente in apertura visto che poi nel resto della seduta c'è stato un andamento una tendenza piuttosto laterale il dax invece rispetto all'apertura ha avuto un calo parziale alla fine la variazione finale appunto è del più 0,37 per cento con una chiusura in area 15.650 a wall street le percentuali dei principali indici non raggiungono il mezzo punto anche se con andamenti con segni diversi per esempio calo per il nasdaq rialzo per il dow jones torniamo a milano dove monte dei paschi è il titolo che svetta sul fuzzimib con un buon più 3 33 per cento come vediamo poi dalla classifica dei 5 migliori di giornata è anche l'unico ad appartenere al settore bancario a brevissima distanza in termini di guadagno si posiziona saipen favorito anche dall'incremento del target price da parte di diversi broker seguono i titoli dell'industria a partire da stellantis che mette a segno circa tre punti percentuali grazie anche al nuovo progetto della nuova abart 500 e in scia troviamo poi cnh industrial che si aggiudica un più 2 88 per cento mentre inter pump è ancora più vicino ai tre punti percentuali i titoli in perdita hanno registrato cali frazionali tra le utility citiamo terna l'unico a sfiorare almeno uno e snipe e snam scusate con circa mezzo punto di flessione c'è invece lo 0 e 70 per cento circa inuit mentre campari e biper chiudono appaiati registrando cali ancora meno significativi ancora meno evidenti intorno almeno 0 e 15 per cento circa tendenzialmente positiva la moneta unica euro dollaro che ieri ha regolarmente scambiato come poi anche gli altri cross valutari questa mattina è tornato sopra quota 1 0 9 e da lì in poi non si è più mosso non è più sceso insomma sotto questo livello un progresso simile è dato è stato messo a segno anche dall'euro yen che rimane saldamente sopra i 145 sale ma in misura minore come vediamo anche l'euro sterlina ospite d'eccezione in questa edizione di oggi è roberto malnati uno dei protagonisti a you finance bologna tra pochissimo il 14 apri salve a tutti ospite d'eccezione delle interviste di trader link di oggi roberto malnati che sarà anche protagonista di un intervento al meeting di new finance del 14 aprile a bologna allora roberto prima di tutto grazie per essere con noi oggi una domanda una tua view sui mercati ma prima ancora una curiosità il tuo intervento a bologna di cosa parlerai lascio a te la parola grazie per l'invito l'evento a bologna sarà una sorta di rimpatriata in cui ci ritroveremo con con il team di trader link con con l'idea di presentare questo questo prodotto che chat gpt che chiaramente non è di nostra produzione ma è su tutti i giornali per il fatto che il garante della privacy ha vietato l'utilizzo in italia ma la parte che utilizzeremo noi cioè quella che abbiamo provato con i nostri sviluppatori io e mauro fratelli che sarà sul palco con me utilizza una tecnologia che si chiama epi api quindi che non è sottoposta a questa a questo blocco da parte del garante della privacy quindi vi spiegheremo come abbiamo provato a integrare questa tecnologia all'interno del mondo del trading all'interno del mondo degli investimenti quali quali sono le strade che abbiamo dovuto percorrere che cosa è successo quando ci siamo trovati di fronte a risposte che non erano quelli che ci aspettavano insomma ma sarà sarà davvero un modo per vedere dietro le quinte per capire che cosa c'è dietro la produzione di questo software e per interagire con con chi vuole affrontare questo tema e vuole godere dell'esperienza di chi ci ha già investito e sbattuto la testa per molto tempo e allora la domanda classica la tua view sui mercati la mia view sui mercati abbastanza attendista abbiamo visto un inizio anno dove le banche sono state molto forti prima della crisi bancaria con la crisi bancaria gli investimenti sono tornati prepotenti sulla tecnologia che aveva comunque fatto un anno un 2022 terribile e quindi questa ripresa delle delle aziende top americane ha visto il rialzo dell'indice nasdaq poderoso con più 15 fino fino a settimana scorsa oggi dobbiamo fare i conti con una stabilizzazione quindi non c'è un trend principale la forza dell'oro di queste ultime settimane ci dice che il mercato ha paura di stare investito sui titoli e quindi cerca altre soluzioni vedremo nei prossimi giorni che succederà perfetto roberto io ti ringrazio per le tue indicazioni e con te a questo punto rimando l'appuntamento a bologna direttamente ufinance 14 aprile grazie grazie vi aspetto sarà divertente perfetto grazie rossana e grazie roberto e grazie come sempre a voi per l'attenzione da parte mia non mi resta che augurarvi una buona serata e una arrivederci a domani